ciao ciao a tutti benvenuti e bentornati in un nuovo video oggi siamo qua riuniti nel sacro vincolo del make up con le coccinelle guardate come sono carine allora sapete che io adoro le coccinelle guardate questa com'è bella e la coccinella penso che sia quella gigante della trudi guardate come grande in confronto alla mia mano è molto molto carina e molto grande e direte che ci sta a fare la lalix con le coccinelle ce le fa vedere no l'obiettivo è farvi vedere questa trousse make up e con l'occasione ho invitato anche queste bellissime coccinelle guardate questa è media questa è piccolina uguale a loro guardate che carina l'abbiamo trovata nell'uovo di pasqua questa piccina ed è uguale alle altre due e poi noi avevamo questa che abbiamo capito essere la femminuccia guardate super carina è una sorta di pellicetta qua belle belle quindi ci fanno compagnia per guardare assieme questa trousse di pupa allora adesso gli fa un po' ombra però non so se riuscirete a vedere bene facciamo così la sposto leggermente e ve la faccio vedere guardate che carina allora è una trousse vintage di pupa che possiedo da tanti anni mi pare tipo dal 1997 95 95 forse no però più o meno 96 quindi tantissimi anni e la adoro letteralmente guardate com'è bella allora si apre così a forma di coccinellina spostiamo la coccinella gigante e all'interno guardate è bellissima io non l'ho utilizzata perché la amo letteralmente me l'ha regalata la mia mamma quindi non la utilizzo perché la amo proprio è bellissima penso che non la ovviamente non la butterò mai e poi mai e la tengo così come un cimelio l'ho utilizzata quando ero ragazzina poco 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 per provare i colori però li adoravo allora poi mi dispiaceva utilizzarli non li ho più utilizzati ecco l'ho lasciata la però col tempo si sono distrutti vedete i pennellini sono distrutti letteralmente perché col tempo scusate fuori dall'inquadratura col tempo si toglie via la spugna quindi è proprio un peccato per fortuna non fanno più pennelli così con la spugna ma li fanno di pelo di settole e quindi non c'è il pericolo le matite sono rimaste perfette anche gli ombretti invece anche la spugna vedete qua c'era la spugnetta della cipria ma guardate cosa è successo si è letteralmente sbriciolata col tempo da sola e questa si andrò a buttarla mi dispiace qua sotto ci sono la terra che non avevo mai utilizzato perché io all'epoca non la utilizzavo tra l'altro essendo già un po amora di mio non avevo bisogno di utilizzare la terra volevo farvela vedere senza magari scalciofarla con le unghie però volevo tirar via la plastica ecco però incollata forse infatti si è incollata col tempo vedete qua c'era fondotinta e terra io però all'epoca non la utilizzavo e qua c'era un blascino in crema penso che fosse un blascino in crema e uno in polvere e qua c'erano dei correttori forse era già una sorta di prova di contouring con questo marrone che io non sapevo assolutamente a cosa servisse una base penso per il rossetto e poi c'era questo che era un glossino un ombretto messo così a caso qua in mezzo un altro glossino e questi erano ombretti in crema ombretti in crema ombretti in polvere però io letteralmente lì è caduta scappote letteralmente li adoravo non li ho potuti utilizzare per questo motivo mi pento mi son pentita è un pochino direi di sì un pochino si aspettate che aggiusto un attimo l'inquadratura così un pochino mi sono pentita nel senso che è un peccato non utilizzare le cose che amiamo però se adesso l'avessi utilizzata non ci sarebbe più tutta così colorata e dite vabbè mi rimaneva sempre la plastica sì però non lo so ecco ditemi voi vi succede di fare questa cosa di se vi fanno un regalo che voi adorate amate poi non lo utilizzate non lo so io se lo fanno con quello che regalo io ecco mi dispiace che non viene utilizzato che poi magari si butta però in questo caso me l'ha regalato la mia mamma a me dispiaceva un po utilizzarla era bellissima però adesso col senno di poi dico boh peccato vedete c'era anche addirittura già mettevano all'epoca il temperino compreso guardate veramente top e che chiutta anche il mascara cioè io non avevo proprio cosa di aprirlo era super piccolo super bello ormai super secco ecco peccato vedete diciamo che sì se lo utilizzavo all'epoca lo potevo utilizzare tra e adesso che cos'è un pezzo di plastica peccato sì sarebbe stato bello però magari una volta che bello c'era anche lo stemma quassù della pupa volte non si fa né per cattiveria né per ma semplicemente per troppo riguardo forse troppo rispetto verso anche le cose che ti vengono regalate a me ecco forse dispiace tanto secondo chi me lo regala però vedendo adesso che la polverina si è attaccata qua un po mi dispiace ecco è bella perché vedendola così mi riporta proprio al momento in cui l'ho ricevuta ed è strabello avere un ricordo così vivo così nitido non so mi fa un po ecco adesso di malinconia certe cose che ho ottenuto come ad esempio questa che so anche costava tanto perché mi pare costava 99 mila lire una roba così quindi anche tanti soldi all'epoca mi pare o 69 o 99 mila lire sì mi dispiace non averla utilizzata però bella era prima bella è adesso e diciamo che ecco è un prodotto da collezione però rovinato perché le spugnette sono deteriorate e quindi ma è più un valore affettivo perché ovviamente sì ecco io non andrei mai né a darla né a tanto meno a venderla perché ci sono affezionata un valore affettivo bene con questo video un pochino malinconico un pochino così ricordando i vecchi tempi fatemi sapere nei commenti se anche voi avete qualcosa che avete conservato che vi piace che magari vi ricorda la vostra mamma o il vostro papà lasciate un pollicino se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e come sempre vi mando un bacio grandissimo ci vediamo al prossimo video un bacio dalla vostra lallix ciao